Almeno 5 furti d'auto di grossa cilindrata di cui dovranno rispondere due giovanissimi cerignolani in trasferta tra Marche ed Abruzzo. L'operazione dei carabinieri di Osimo in provincia di Ancona assieme ai colleghi militari della compagnia di Cerignola obbligo di dimora per un ventenne e un ventunenne entrambi accusati di aver commesso furti a Castelfilardo, Pescara e Giulianova per un valore totale di 140 mila euro dovranno rispondere di furto aggravato. Nell'inchiesta condotta dai militari c'è anche una terza persona ma a cui non è stata applicata nessuna misura da parte del GIP di Ancona su richiesta della procuradorica. L'indagine è iniziata dopo il furto di un Audi Q3 avvenuto a marzo a Castelfilardo dove sono avvenuti altri tre furti simili. Partendo dal primo colpo, carabinieri Osimani sono riusciti a risalire ad altri furti analoghi commessi tra marzo e maggio nelle Marche e in Abruzzo, sostituendo la centralina dei veicoli. Due furti commessi a Pescara e uno a Giulianova. La banda, secondo l'accusa, sarebbe stata composta da un numero variabile tra due e quattro persone. Secondo gli investigatori, i raid partivano da Cerignola verso il centro Italia. Ad aprire la strada ci sarebbe stato uno dei membri che procedeva sempre davanti agli altri a bordo di una vettura. Lo avrebbe seguito poi un complice a bordo invece dell'auto rubata, pronto a essere avvertito con il cellulare in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine. I carabinieri hanno accertato come i veicoli rubati, una volta giunti nel territorio foggiano, venissero subito smontati ai pezzi delle vetture immessi rapidamente e illecitamente sul mercato dei ricambi. Non è la prima operazione di questo genere. In realtà, nella provincia di Ancona, a gennaio scorso, furono tre i cerignolani arrestati in un'altra operazione contro i furti di autovetture.